Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Macromasters. La serie è organizzata da fotogal.it in collaborazione con l'Aova e questa sera avremo come ospite Luca Mick al quale presto cederemo la parola ma non prima come sempre di avervi presentato e ripresentato per chi non l'avesse già conosciuto ho Nick Vanbekian amministratore delegato di Image Consult che è importatore per l'Italia di L'Aova il produttore di ottiche per mirrorless, reflex, full frame, psc e chi più ne ha più ne metta. Ti lascio la parola on Nick. Grazie Emanuele anch'io al mio socio a salutare e a dare un benvenuto a tutti gli intervenuti. L'Aova Italia è un'azienda che importa che importa tanti prodotti sicuramente L'Aova è uno dei prodotti più importanti e più caratterizzanti del nostro portfolio è un'azienda che tanti ormai conoscono ma sono delle ottiche molto molto speciali i grand'angoli molto spinti macro molto 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 spinti e sono ottiche che stanno cominciando a cambiare un pochino il modo di ragionare dei fotografi ovvero la possibilità di poter andare a cinque per o due per come norma di fattore di ingrandimento sicuramente apre ai fotografi non solo esperti e professionisti come Luca Mick ma anche a amatori una nuova porta per poter esplorare la fotografia. Volevo ringraziare Emanuele Emanuele con questa sua iniziativa sta dando una bellissima visibilità al mese del macro che stiamo che stiamo vivendo adesso tutto il mese di maggio è il mese dedicato alla macro fotografia e il fatto di essere sulla fotocalt.it la nuova piattaforma digitale ci ha anche questo dato delle possibilità di raggiungere tante 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 persone davvero non immaginate quanti hanno poi rivisto nel corso delle settimane a seguenti alla diretta le le nostre registrazioni per cui grazie Emanuele e complimenti per il pubblico che riesce a raggiungere grazie ma infatti voglio anche ringraziare salutare chi ci seguirà indifferita perché ovviamente una volta terminata questa diretta l'intervista a Luca Mick sarà disponibile su tutti i nostri canali su Facebook su YouTube e ovviamente sul sito fotogal.it io a questo punto vi presento Luca Mick Luca eccoci qua buonasera e ben trovato buonasera a tutti ciao Emanuele ciao Nick grazie mille di avermi invitato a questa bella occasione insomma dedicata alla macro fotografia Luca cominciamo andiamo dritti al sodo perché macro fotografia quando ci sei arrivato è stato il primo genere di fotografia a cui ti sei dedicato o guarda il punto di arrivo guarda io faccio il fotografo professionista però prima di fotografo professionista sono un grande un grande appassionato di natura vivo in ho la fortuna di vivere in mezzo alle due miti e quindi io sono sempre stato attratto affascinato dalla natura dai boschi dalla montagna che ho che ho praticato anche come alpinista e quindi fare il passo unire la fotografia alla natura è stato diciamo una conseguenza naturale e sai un giorno ti trovi in mezzo un bosco e apri una alzi una foglia di una fece e lì sotto vedi e trovi un mondo infinito incredibile affascinante quindi la macro fotografia è un po' la conseguenza naturale di questo di questo amore per la natura mentre mandiamo mentre mandiamo online la prima immagine sì bisogna proprio sottolineare questo alla macro fotografia è un genere fantastico perché comunque ti consente di sperimentare di muovere i primi passi anche dentro casa se vogliamo nel giardino anche basta a volte un vaso in cui abbiamo messo del basilico per scoprire veramente un microcosmo interessantissimo devo sottolineare anche che l'auva devo riconoscerlo questo al marchio consente un accesso al mondo della macro fotografia davvero abbordabile perché i prezzi delle proprie realizzazioni sono davvero alla portata di tutti e lo fa ovviamente anche rinunciando alla messa a fuoco automatica ma tutti sappiamo che in macro fotografia la messa a fuoco automatica è a dir poco superflua se non in rarissimi casi e si focheggia a mano con la tecnica del camaleonte quindi spostandosi letteralmente un po' avanti e indietro la ricerca della della massima nitidezza vedremo che in realtà poi ci sono anche degli accessori molto specifici di cui tu fai largo impiego perché bisogna dirlo a differenza degli altri due fotografi che ti hanno preceduto luca eberle e marco colombo che sono molto istintivi e vanno spesso a mano libera tu fai uso diffuso diciamo piuttosto frequente di tre piedi e stappe micrometriche però non voglio anticipare altro raccontaci brevemente questo primo questa prima immagine di accesso alla serata che cosa è fotografato come lo hai fotografato e se c'è segreto particolare direttamente dunque guarda eh sì hai detto bene io sono un macro fotografo lento quindi io giro sempre con tre piede testa micrometrica slitte micrometriche poi vedremo un po' di backstage anche in particolare quando mi dedico eh alla flora e ai funghi che sono la mia grande passione ho la possibilità di curare molto l'inquadratura e questo è possibile soltanto con con un tre piede e con un gestendo l'inquadratura micrometricamente ovviamente i pesi i pesi diventano anche importanti quindi non sempre è facile percorrere grandi eh grandi tratti eh però come dicevi spesso spesso il bello lo si trova a poche centinaia di metri dalla macchina a volte per cui ehm ecco il mio approccio alla macro fotografia è un approccio lento un approccio molto meditato eh però io tu sai che tengo anche molti molti workshop dedicati alla macro fotografia quello che io dico sempre anche ai miei miei allievi è che eh basta poco per iniziare eh è una disciplina questa che può diventare anche molto impegnativa però eh anche con con poco eh anche a mano libera anche a mano libera eh si possono ottenere degli dei bellissimi scatti in questo caso eh sembra luce naturale ma ho l'impressione che non lo sia vero tutti occupi di macro fotografia e potrei quasi dire stage posata con una notevole cura dell'inquadratura e dell'illuminazione qui che cosa hai utilizzato per riempire il primo piano? Allora guarda ehm io ho usato per tanti anni eh i flash quelli diciamo i kit soprattutto Nikon da montare sulla slitta anulare li ho ormai abbandonati da diversi anni ormai io viaggio molto eh molto leggero fortunatamente eh oltretutto ma soltanto con luce led che mi permette di vedere esattamente quello che fotograferò la luce led è una luce molto eh facile da usare. Faccio vedere il il backstage chiamiamolo così diciamo l'assetto di ripresa. Sì. Eccoti qua. Ecco. Per chi eh fosse ai primi passi nel mondo della fotografia e della macro fotografia in particolare spieghiamo che appunto il la luce flash a meno di non avere una luce pilota quindi una piccola luce continua che lascia intuire grosso modo quello che eh il modo in cui il soggetto verrà illuminato eh è una luce istantanea di cui ovviamente non ha ehm ci dice Sibilla chiedo scusa questo è un dettaglio tecnico che l'audio di Luca eh non è eh costante credo che sia un problema di io l'ho sentito regolarmente però i soliti problemi della diretta e dell'infrastruttura. Anch'io lo sento lo sento bene forse è un problema di collegamento di Sibilla. Allora proseguiamo grazie intanto Sibilla comunque la il vantaggio della luce led è che è una luce continua quindi puoi vedere eh con costanza tutti gli effetti dell'intensità dei vari punti luce che utilizzi e la posizione quindi come vengono proiettate le ombre eh e e la profondità di queste e il rapporto anche no tra le luci destra e sinistra che normalmente si utilizzano. E il rapporto anche con la luce ambiente perché ovviamente non deve essere una luce eh diciamo innaturale quindi forse questo è anche un po' il eh l'aspetto che richiede un po' più di esperienza ecco. Torno infatti all'immagine precedente e se qua c'è stato l'utilizzo di una luce artificiale è perfettamente mixata con quella naturale presente in quel momento. Sì esatto. Ecco appunto dicevo che la macro fotografia io questa sera ho portato un po' di scatti cercando un po' di accompagnare quelli che coloro che ci seguiranno in un percorso che parte da una macro fotografia facile anche in un certo senso per iniziare per poi spaziare vedremo più avanti un po' di scatti di macro fotografia ambientata per poi parlare di focus stacking. Ecco dicevamo appunto eh a volte basta andare in balcone per trovare qualche cosa di di interessante da fotografare e per passare anche qualche interessante e bella ora di 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 svago. Ecco. Io vedo che è un assetto comunque piuttosto complesso che fa eh stride un po' con quello che abbiamo detto prima che la fotografia è anche una un genere eh la macro fotografia è un genere macro sì chiedo scusa che la macro fotografia è un genere che può essere eh praticato anche con poca spesa e con in relativa semplicità. Qui invece vediamo però eh tu hai giustamente premesso sei un fotografo professionista che ha un arsenale letteralmente al proprio servizio di macchine fotografiche e accessori. Qui vediamo un set piuttosto complesso che quindi è composto eh aiutami se nel caso mi perde qualcosa da eh composto da una mirrorless mi con z dici tu quale? Eh z sette due in attesa della z otto. Ok. Ecco. Presto. Lasciatemelo dire l'abbiamo già in redazione presto ne vedrete il test su fotografico. Ecco. E l'obiettivo è? L'obiettivo qui è un è il quindici millimetri eh macro uno uno. Ok. Eh però questo non è il backstage della foto che abbiamo vista prima è una foto di backstage per far vedere diciamo ecco l'assetto il mio assetto tipo ecco esatto ehm certamente la macro fotografia si può fare anche eh l'unica cosa che è veramente necessario acquistare è un'ottica macro eh questo è diciamo il il l'accessorio necessario per entrare in questo mondo però siccome ecco a onor del vero ci sono dei sistemi ancora più economici per entrare nel mondo della macro ad esempio le lenti adizionali tubi di inversione di tubi di lunga però diciamo che per la massima qualità delle immagini per non mortificare tra l'altro i sensori delle moderne macchine fotografici che sono capaci di prestazioni incredibili eh è bene dargli eh dargli impasto immagini che attraversano obiettivi di una certa qualità. Sì eh poi comunque sono accessori anche le lenti eccetera che non hanno un costo comunque se si vuole ottenere diciamo fotografare con una certa qualità non indifferente per cui il consiglio che do io è di acquistare un'ottica macro eh queste di Lau appunto sono ottiche dal punto di vista eh diciamo della qualità eccezionali eh a un prezzo davvero conveniente eh sono le uniche che arrivano al rapporto di ingrandimento due a uno quindi riusciamo a fare della macro fotografia veramente molto molto interessante anche abbastanza spinta per cui ecco eh si può iniziare con poco poi certo a me eh vedete utilizzare molta attrezzatura molta attrezzatura anche sofisticata ma eh lo faccio anche di lavoro per cui eh logico. Noi potremmo parlare ore per ogni a proposito di fotografia ma vedo che il tempo passa rapidissimo quindi eh passiamo a quest'altra immagine che so avere una storia molto carina dietro eh faccio la premessa tecnica questa è stata realizzata con un cento millimetri macro sempre l'aua che guarda caso ha infatti un rapporto di riproduzione massimo due a uno. Ma è la è la è la nascita di questa immagine che mi ha interessato particolarmente. Ma guarda e questa qui eh è una eh questo fiorellino bellissimo che è tra le prime fioriture proprio eh già i primi di marzo quindi sono le prime cose che si possono fotografare dopo il periodo invernale si chiama erba trinità è detta erba trinità eh la si trova molto spesso nei boschi di faggio eh e quando ho visto questo fiorellino ho cominciato io mi siedo sempre poi ho dietro una pinzetta comincio a togliere e pulire tutto il mio eh il mio set da foglie marce fili d'erba appassiti sassolini aghi foglie e scavando ho trovato anche una chiucciolina che che sembrava insomma capitata lì proprio proprio apposta per impreziosire lo scatto e quindi vedi a volte la macrofotografia ma come a tutta la fotografia è anche fortuna è è impegno è costanza è anche fortuna quindi qui sono stato sono stato anche fortunato. Per chi avesse notato la la qualità dello sfocato in queste immagini diciamo che il diaframma era regolato su F8 quindi un diaframma medio a cui eh la nitidezza eh raggiunge il massimo normalmente è quello il diaframma ottimale praticamente per tutte le ottiche tranne rarissimi casi e eh e devo dire che mantiene una certa plasticità che non è un carattere molto diffuso tra i macro che devono compensare una fortissima correzione delle aberrazioni sferiche soprattutto con la necessità comunque di dare un'immagine non troppo ruvida non troppo dura nei piani che non sono a fuoco e devo dire che Laura da questo punto di vista si difende davvero bene. Passiamo all'immagine successiva che è interessante perché questi cristalli non sono solo il soggetto ma è interessante quello che c'è dietro e che forse non è facilissimo da scortere. La macro fotografia si può fare in tutte le stagioni dell'anno eh quindi si possono fotografare insetti fiori ma eh nell'inverno è bello andare alla ricerca di queste eh straordinarie formazioni di cristalli di ghiaccio e in questo caso eh quella parte verde che sta sotto questa brina di superficie è un filo d'erba semplice filo d'erba che è stato fotografato qui cercando di mettere in perfetto parallelismo il piano del sensore con il filo d'erba in modo che in uno scatto solo eh è stata abbiamo già raggiunto la profondità di campo che era necessaria qui è luce ambiente eh questo è uno scatto molto semplice eh io io dico sempre che per fare per fare una buona fotografia occorrono tre cose occorre un diaframma un otturatore e una bella idea ecco eh noi dobbiamo cercare di trovare le belle idee le belle idee spesso sono davanti a noi e dobbiamo soltanto imparare a a trovare ecco il e ci sta seguendo eh faccio presente che la chiacchierata di questa sera con Luca è è molto interessante perché in realtà è una sorta di eh corso accelerato perché le foto che stiamo vedendo in questa fase iniziale sono relativamente semplici per quanto belle ma nell'arco della serata eh ci sarà un escalation se possiamo chiamarla così di complessità eh arriveremo a rapporti di riproduzione ancora più spinti di quelli che vedete qui e anche all'utilizzo del della tecnica del focus stacking eh che poi insomma eh accenneremo e anche qualche cosa di più certo qui siamo sempre con le foto relativamente semplici ah tra l'altro diciamo di queste immagini velocissimamente i dati tecnici il diaframma è un po' più chiuso rispetto al prima F11 e il tempo eh di scatto è di appena un ottavo di secondo perché comunque la evidentemente non ti trovavi certo il pieno sole né tantomeno una zona particolarmente luminosa vista anche la sensibilità utilizzata che è ISO 64. Sì e questo questo ovviamente eh richiede l'uso obbligatorio del treppiede quindi eh è uno scatto singolo eh f11 per avere la massima profondità di campo però eh è ancora uno scatto singolo poi vedremo che utilizzeremo altre tecniche ecco anche in questo caso eh io sono un grande appassionato di questo genere di fotografia ma i funghi sono delle delle degli abitanti incredibili dei dei nostri boschi dei sottoboschi ehm anche qui siamo ancora in una macrofotografia in un certo senso facile eh una volta che abbiamo trovato la composizione giusta occorre soltanto illuminare adeguatamente lo scatto e ehm e la foto è fatta ehm questo questo scatto è anche il prossimo eh con il quale diciamo in un certo senso concludiamo questa prima fase dedicata alla macrofotografia eh di primo di primo di primo approccio ecco quello che io cerco sempre di fare è ehm di curare molto bene ecco il mio set per cui io ho una pinzetta appunto una forbicina cerco di pulire molto bene di curare la composizione quello è molto importante vedo che c'è una domanda c'è un sì intanto sì ti riconosco veramente un'estrema pulizia eh non solo formale ma anche materiale dei dei tuoi set davvero sì la domanda è di Laura che chiede se si possono ottenere i buoni scatti anche a mano libera sì si possono ottenere dei buoni scatti anche a mano libera ehm io sto come ti dicevo io utilizzo sempre praticamente il treppiede ci sono certi scatti che però eh col treppiede non si possono realizzare che sono ad esempio gli insetti molto veloci come le formiche ad esempio come insetti in volo eh sto cercando di studiare qualche cosa vedi mi sono qua vi faccio vedere una staffa che mi sono autocostruito con un led per cercare insomma certamente si può farci sono i fotografi molto bravi ehm però la massima qualità certamente la otteniamo con eh un treppiede e soprattutto con una slitta micrometrica che ci permette di focheggiare con estrema precisione sul 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 soggetto quindi una nota per Laura che ovviamente la buoni scatti a mano libera vuol dire essenzialmente esenti da micromosso e in macrofotografia il mosso è in agguato perché l'ingrandimento che noi abbiamo dell'oggetto o del soggetto che dir si voglia è elevatissimo e per certi versi può essere paragonato all'uso di un teleobiettivo molto molto sfinto quindi è importante utilizzare tempi di scatto molto rapidi in misura più che proporzionale alla solita alla forse nota eh regola del reciproco della focale per cui se stiamo utilizzando un cento millimetri non possiamo difficilmente riusciremo ad avere un'immagine nitida scattando a un cento venticinquesimo di secondo meglio andare verso il duecentocinquantesimo a mano libera salvo l'utilizzo di stabilizzatori ottici dentro l'ottica oppure sempre più diffusi per fortuna eh incorporati nella fotocamera eh che consente eh spesso di allungare tempi di esposizione anche di tre quattro o cinque stop nelle macchine più nelle fotocamere più moderne sì esatto andiamo pure avanti sì ecco eh vediamo un altro un altro scatto se vuoi sì certo e anche questo è un esempio eccellente di pulizia della eh della composizione sì eh e sembra irreale sembra posso dirlo brutalmente sembra photoshopata soprattutto nella parte in cui il gambo eh sparisce nel nello sfocato del muschio perché eh calcolando diciamo ehm dosando correttamente la profondità di campo riusciamo anche a isolare il soggetto da tutto quello che sta davanti a tutto quello che sta dietro e quindi con una opportuna scelta del diaframma e con un'inquadratura che permette di avere uno sfondo sufficientemente lontano per venire così pastoso così diciamo eh sfocato riusciamo a ottenere questi scatti eh molto fiabeschi no in un certo senso qui vediamo quale potrebbe essere un treppiedi così eh eh versatile diciamo da poter essere abbassato fino al livello del del terreno allora eh tanto lasciami svelare a a Sibilla il fatto che in realtà questo funghetto in particolare non era da soterra ma nasceva sul sul fianco sul fusto di un non riconosco l'albero quindi non mi lancio eh comunque nasceva sul tronco di quest'albero eh mentre in altri casi ci sono molti molti treppiedi ma lascio la parola a te Luca eh racconta tu come arrivi a soterra con fotocamera stabilizzata da un treppiedi allora adesso vedremo qualche foto di backstage anche per questo ehm sopra dunque arrivare eh diciamo più bassi possibili è fondamentale qui sono stato fortunato perché ehm anche la schiena ringraziato devo dire perché questo fungo era un'altezza dove insomma era molto molto semplice da avvicinarsi ma eh soprattutto nella fotografia dei funghi dei fiori è importantissimo arrivare bassissimi a raso terra proprio a far toccare la macchina fotografica il terreno e per fare questo io ho utilizzato mi sono inventato un piccolo trucco cioè io inverto la colonna eh del treppiede cosa che possono fare generalmente tutti i treppiedi di buona qualità e poi ho eh mi sono costruito una staffa che vi faccio vedere eccola qui dove c'è una semplicissima piastra eh continuo a farla vedere la eh mostro un po' più grande la tua immagine eh spero di riuscirci facilmente e di non far vedere la mia ecco non ci sono riuscito chiedo scusa ritorniamo alla ah ok forse puoi riuscire facendolo tu dalla regia ok ecco dunque in questo caso qui appunto l'altezza di ripresa mi permette di montare la slitta micrometrica e essere abbastanza dritto anche con la schiena di avvicinarmi molto comodamente ma quando devo arrivare veramente veramente basso sul terreno allora vi dicevo che eh inverto la colonna del treppiede poi vedremo delle foto di backstage che lo fanno vedere molto bene e sospendo la macchina fotografica però sospendendola dalla slitta flash eh in questo modo riesco ad avere la visione dei menu a orientare lo schermo ed avere tutta quella manualità che serve sulla slitta in maniera in maniera ideale mi sono vi dicevo costruito questo piccolo eh accessorio è una slitta eh una piastra rapida con attacco arca un raccordo femmina femmina da un quarto di pollice poi una slitta a contatto caldo flash in questo modo io riesco a inserirla sulla macchina fotografica vedete e a sospenderla dall'alto però lo vedremo poi in foto di backstage come questo piccolo trucco eh permette degli scatti che altrimenti non sarebbero realizzabili perché nessun treppiede arriva veramente così in basso anche perché sospendere la macchina anche perché se noi mettessimo sotto una staffa comunque per quanto sottile ruberebbe eh spazio in altezza ed è uno di quei casi in cui macchine che hanno il fondello porta batterie risultano completamente inutili anzi controproducenti esattamente sì perché ti lasciano sempre lontano dal dal terreno dal terreno sì 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 ecco eh qui adesso questa fotografia ehm ci permette di ehm descrivere una diciamo l'evoluzione che ha avuto la macro fotografia la macro fotografia si è sviluppata in tutta la sua eh nell'era analogica della fotografia ma fino ancora pochi anni fa anche quindi nell'epoca digitale con ottiche che andavano dai 60 mm ai dal 100 al 200 con il 105 mm che era l'ottica regina ehm ecco fotografando con un medio tele noi abbiamo un angolo di campo abbastanza già abbastanza chiuso e eh una profondità di campo sempre molto limitata cosa che eh produce eh una visione molto stretta sul soggetto e con degli sfondi molto sfocati molto pastosi e molto sfocati che hanno sono stati la caratteristica per tantissimi anni per decenni della macro fotografia ecco questa e anche la la prossima la prossima fotografia dimostrano proprio questo questo approccio classico alla alla macro fotografia eh oggi ehm esistono delle ottiche che eh hanno diciamo eh permesso un approccio eh creativo eh completamente nuovo la macro fotografia ad esempio il 15 mm di Lauva eh un super grandangolare che arriva al rapporto di grandimento 1 1 permette eh di eh fotografare eh anche gli oggetti più piccoli più minuti in un eh ma senza decontestualizzarli dal loro ambiente naturale ma come in questo caso di riprenderli all'interno del loro ambiente naturale fondendo quindi fotografia di paesaggio e macro fotografia insieme ed è questo un un approccio alla macro fotografia molto stimolante molto creativo io la chiamo macro fotografia 2.0 eh perché è davvero molto molto interessante in questo caso qui eh io ad esempio volevo eh fare proprio questo tentativo di eh unire la fotografia di paesaggio quella eh la più nobile quella fatta al tramonto eh con la macro fotografia questa qui è eh una pianta eh si chiama pedicularis verticillata ed è una pianta parassita che si attacca al all'apparato radicale delle delle di altre piante in questo caso sono è una sono mirtillo nero eh ed è alta 4-5 centimetri non di più qui è stata fotografata appunto con il 15 millimetri se vuoi andare avanti vediamo il backstage sì e eh vedete che la macchina praticamente è a contatto col terreno ecco qui si vede molto bene eh la gruccia se vogliamo chiamarla esattamente la stampella esatto 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 eh qui la difficoltà di questo scatto è stato eh combinare due generi fotografici diversi insieme perché ehm ho dovuto eh usare un diafranco intanto per questo scatto avevo la possibilità di uno scatto singolo perché c'era vento eh le piante continuavano a muoversi per cui io dovevo eh avere un tempo di otturazione abbastanza veloce mi sembra che qui avevo un centoventicinquesimo di secondo ho chiuso F16 per avere eh la massima profondità di campo che oltretutto un 15 millimetri da per cui è estrema eh ho dovuto controllare domare in un certo senso la luce sullo sfondo che è comunque era molto luminoso tutto chiudere anche di uno stop per evitare di bruciare le alte luci sulla sulla montagna e sulle nuvole sono le pale di San Martino che sono le pale di San Martino ed è evidente che chiudendo F16 e chiudendo anche di sottosponendo di uno stop era necessario eh illuminare il il soggetto ed ecco qui il mio piccolo set di di led il lanciamento è perfetto tra primo piano e sfondo la luce leggermente dall'alto è naturale perché è come se fosse e la cosa forse del sole e devo dire che è bellissimo poi lo stacco della del terrapieno insomma del del prato retrostante che invece non è raggiunto dalle luci del dei led quindi è più scuro e crea uno stacco bellissimo con invece con lo sfondo che è illuminato naturalmente dal sole e prima di andare avanti eh non non voglio tenere sospeso oltre Marco che chiede quali sono le caratteristiche delle litte micrometriche che ne determinano il prezzo come vedremo più avanti eh ve ne mostreremo alcune che sono molto costose ma perché hanno delle caratteristiche notevoli tra cui in particolare la motorizzazione però il il prezzo se ehm tu vorrei confermarmi visto che le usi quotidianamente è strettamente legato alle tolleranze quindi alla precisione dei movimenti alla possibilità di eh variare la la posizione della fotocamera eh e della slitta rispetto alla alla testa del treppiedi perché possono anche essere dotate di doppio movimento che deve essere estremamente preciso senza giochi con possibilità di blocco e altre caratteristiche che vorrai magari aggiungere tu però ecco è la la precisione nella lavorazione e nell'assenza dei giochi tra le parti mobili sì esattamente io ne ho provate un sacco e ne ho acquistate e rivendute davvero tante eh fino a che ho provato le slitte di Novo Flex e qui eh Nick potrà anche dire dirci qualche cosa che le ho trovate assolutamente di una precisione di una affidabilità unica eh eh una slitta micrometrica deve essere assolutamente precisa altrimenti la sua funzione è come una verla diventa inutile tra l'altro ehm può capitare di portare diverso peso eh eh sulla slitta micrometrica per cui deve essere veramente molto robusta e molto precisa eh oh eh prima hai detto una cosa che tra l'altro si collega a questa ulteriore notazione che hai fatto eh se la slitta micrometrica è ballerina è inutile è vero soprattutto se dobbiamo eseguire delle tecniche di ripresa multi scatto che quindi richiedono la perfetta staticità della macchina tra una eh tra uno scatto e l'altro eh e tu prima e mi ricollega una cosa che ho detto poco fa dovevo fare una sola potevo fare una sola foto eh non tutti sanno che sei anche esperto di focus stacking quindi è una tecnica che in quel momento non potevi mettere in pratica eh perché il vento avrebbe mosso il soggetto tra uno scatto e l'altro per quanto veloci questi potessero essere eh e ravvicinati tra loro eh anticipiamo velocissimamente il focus stacking è una tecnica che consente di ottenere una profondità di campo eh a piacere eh teoricamente infinita perché è la fusione di più immagini fatte con messa a fuoco differente che poi un software si eh prende la briga di eh ritagliare prendendo le parti nitide da ogni fotografia e fondendo il tutto in una nuova immagine ma ci arriviamo esattamente proseguiamo andiamo avanti con eh ecco questa è un'altra situazione che tra l'altro ti consente di rispondere a Gugu che chiede eh quali sono le caratteristiche dei led di questo backstage marca modello e come giustamente ipotizza sono dimerabili questo possiamo già confermarlo assolutamente sì controllabili anche da remoto sono impermeabili sott'acqua questi io uso ehm questi led di eh young cube che sono veramente notevoli sono in metallo hanno una dissipazione del calore veramente molto buona hanno delle batterie davvero eh diciamo eh capienti per cui riuscite a fare una giornata intera di scatti senza necessità di doverli cambiare eh vengono venduti in kit con un sacco di accessori quindi qui adesso lo vedete con una piccola cupola eh un piccolo diffusore ma ci sono proprio un sacco di accessori utilissimi dallo smooth al eh al degli lastre assorbenti per cui si possono eh si può controllare la luce modellare la luce veramente come come se fossimo in studio è un piccolo studio portatile sì un piccolo studio portatile sì c'è chi li usa anche per fare un po' di video ovviamente sono luce continua per cui eh sono veramente molto molto buoni l'uncube io uso esatto tra l'altro ecco l'hai l'hai detto pronunciandolo bene scritto l'ume cube eh che molti italiani lo pronunciano così in maniera molto casereccia e quindi li potete cercare con questo spelling eh online eh intanto eh ti arrivano dei complimenti ma sono molto grazie mille e proseguiamo andiamo avanti eh ecco andiamo avanti e qui eh concludiamo questa seconda parte questo è uno scatto eh nuovamente ambientato di questa famigliuola di funghi che sono stati ripresi nel loro ambiente quindi nel bosco vediamo eh gli alberi dietro una parte di di cielo sempre con i 15 mm eh no eh qui sono se ricordo bene con il 60 sì eh però qui eh c'è una complicazione in più perché questo soggetto è di ormai troppo grande e eh neanche chiudendo a f16 nemmeno oltre saremo in grado di ottenere questa nitidezza per cui eh questa fotografia ci dà un po' eh così l'appiglio per introdurre appunto il focus stacking che è questa tecnica che permette di scattare molte immagini eh ogni immagine si preoccupa e si occupa di ritagliare un piano di di nitidezza che eh poi tutte queste immagini come se avessero tagliato no eh per 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 piani eh il soggetto vengono montati da un software e riusciamo ad ottenere eh una profondità di campo appunto virtualmente eh infinita. Per fare questo è necessario. Abbiamo dopo la pubblicità. Adesso col cognome che porto posso permettermi di dire consigli per gli acquisti e di lasciare la parola a Onnick eh e di eh presentare brevemente anzi con tutto il tempo che riterrà opportuno il mese della macrofotografia. A te la parola Onnick. Grazie Emanuele. Il brevemente è rispettoso di chi ci sta seguendo. Questo è un incontro di tipo culturale, un incontro per conoscere gli autori e le tecniche fotografiche e sicuramente non è solamente una roba pubblicitaria. Anzi, visto che la maggior parte delle visualizzazioni avviene nel tempo eh maggio sarà bella che è terminato e con esso il mese del macro. Eh Lauva comunque durante il mese del macro che finisce alla fine di maggio tutte le ottiche fotografiche macro del suo catalogo le propone al 20% di sconto presso i rivenditori autorizzati che potete vedere in elenco Lauva.it. Eh ne approfitto, visto che oggi si parla anche molto di slitte micrometriche di cui Luca è un grande esperto e utente eh ricordare che quest'anno Novoflex si è associata al mese del macro eh per cui sarà possibile acquistare slitte micrometriche meccaniche di Novoflex sempre nella rete dei rivenditori autorizzati con un 15% di sconto rispetto al prezzo di listino. Direi che se qualcuno aveva il dubbio sul cominciare o non cominciare questo è sicuramente un momento favorevole per acquistare e buttarsi e cimentarsi in questa grande ricerca che è una slow photography che ti porta a contatto con l'ambiente, che ti porta a contatto con la natura e che inevitabilmente nella ricerca dell'inquadratura ti porta a osservare cose che altrimenti ci sarebbero passate inosservate. A te Emanuele. Beh praticamente è un lunghissimo Black Friday, è un è un Black May dedicata alla macrofotografia ed è un'occasione secondo me da non perdere. Con Luca invece a questo punto facciamo un salto di qualità non che quello che abbiamo visto finora fosse eh sgradevole tutt'altro né particolarmente facile dal punto di vista tecnico ma adesso entriamo nel vivo con alcune eh eh soluzioni, alcune situazioni, guardate questo questo è veramente uno spettacolo ed è stato realizzato questo scatto con la tecnica del focus stacking. Parla tutto. sì esatto allora quando eh tutti sanno che la profondità di campo è eh inversamente proporzionale a tre a tre variabili al al diaframma di lavoro eh alla lunghezza focale dell'ottica che stiamo utilizzando alla distanza di ripresa e anche ahimè per i macrofotografi al rapporto di ingrandimento. fino ad ora abbiamo visto eh immagini che arrivavano grosso modo eh all'uno a uno alla dimensione reale come rapporto di ingrandimento ma qui facciamo un salto e andiamo a fotografare il il piccolo o il piccolissimo e per fare questo lo dobbiamo ingrandire. quando lo andiamo ad ingrandire quando superiamo questo rapporto il rapporto di ingrandezza naturale la profondità di campo diventa veramente pochissima minuscola eh a volte eh inferiore ai decimi di millimetro. per cui per avere questo qui è un fiore di un piccolo cactus i pistilli del fiore un fiore che dura pochi giorni deve bisogna essere molto molto ecco attenti a trovare queste io spesso vado nelle fiorerie quando trovo delle cose che mi piacciono le prendo le porto a casa e poi poi le fotografo. questo è un diametro di circa due millimetri e mezzo e per fare questa fotografia è stata utilizzata questa tecnica cioè di ehm ehm fare molte fotografie variando eh la distanza di messa a fuoco. quindi non si agisce sul 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 la ghiera della misa a fuoco si fa anche perché in quel modo andremo a modificare il rapporto di ingrandimento andremo a far avanzare ma di decimi di millimetro la macchina fotografica che scorre su questa slitta micrometrica per mezzo di una vite. eh ovviamente è una fotografia molto più impegnativa perché eh richiede un un tanto un calcolo di del corretto diaframma di lavoro del passo di avanzamento sulla slitta di un tempo lungo per eseguire tutta questa serie di scatti ehm e quindi qui entriamo in questa in questa macro fotografia più più complessa ma certamente molto molto affascinante. per questi scatti. Interrompo un secondo solo perché in realtà stai già rispondendo alla prima domanda che è quella di Bianca Maria che chiede quante immagini bisogna scattare per il focus tagging se c'è se questo dipende dal soggetto se ci sono regole precise. Eh qui entriamo dunque ehm e questa è questa è la parte difficile del focus tagging cioè ehm qui sarebbe proprio proprio complicato dare dare una formula. ecco eh nei corsi nei workshop una grande parte del tempo viene proprio dedicato a questo aspetto perché il il numero degli scatti il passo di avanzamento ehm e il diaframma ehm insomma richiedono una buona cultura fotografica e anche un io direi non si vogliono buttare via molte molte ore di prove prima di capirci qualche cosa. una una guida che così conduca all'interno di questo ehm di questa tecnica fotografica. Comunque gli scatti sono generalmente ehm nei rapporto questo qui eh credo che sia un tre a uno eh come rapporto di ingrandimento e qui gli scatti mi sembra che siano stati cinquanta o sessanta scatti eh. sessanta scatti dai dati che ho io. Ecco. E possiamo aggiungere che certo dipende sicuramente dal soggetto perché quanto più questo è profondo tanto più eh sarà elevato il numero di scatti. di scatti. Alla fine gli scatti sono delle scansioni come se fossero delle eh dei tagli verticali ehm con una certa profondità perché è vero che in macrofotografia la profondità di campo è scarsa ma una minima profondità c'è quindi lo scopo è quello di coprire tutta la profondità del soggetto con eh chiudendo il diaframma quanto basta per eh unirsi al passo successivo. quindi l'esperienza poi insegna che eh l'importante è non creare buchi cioè che non ci deve essere una zona del soggetto che non è nitida né nello scatto A né nello scatto B. Eh anzi se possibile tra lo scatto A e lo scatto B devono avere un minimo di sovrapposizione delle parti nitide perché il software eh è facilitato in questo eh perché trova elementi comuni che poi fondi in un'unica immagine. Però ecco questa fusione ecco ho ho utilizzato eh volontariamente questo termine di nuovo perché Maurizio Berni eh solleva una questione forse di carattere filosofico che in tempi di intelligenza artificiale eh almeno a me mi mi accende in modo piuttosto repentino. Lui eh sostiene giustamente e la facciamo leggere a tutti la domanda ehm fa fatica Maurizio a ritenere il focus stacchi come fotografia perché è la fusione di più immagini questo è vero ehm però bisogna comunque considerare che parte la tecnica si avvale comunque di reali immagini fotografiche non è un fotoritocco nel senso stretto del termine per cui non ci sono alterazioni della realtà ehm ed è tutto sommato un sistema per superare un limite tecnico dell'ottica che eh impedisce di avere una profondazione di campo ehm sufficiente per certi soggetti anche chiudendo al massimo il diaframma o al minimo il diaframma eh tra l'altro sappiamo tutti eh se non sbaglio Maurizio Berni che è un nome che mi è noto e credo sia eh un un esperto fotografo lui sa bene eh che a diaframmi molto chiusi la diffrazione eh penalizza la nitidezza quindi anche questo è un altro motivo per cui è meglio eh fare più scatti a F8 tanto per dire che un uno scatto solo F22 quindi dal mio punto di vista scusami se ti ho eh sottratto ma ovviamente se sei libero di aggiungere la tua eh ritengo che eh non ci sia la violazione ecco l'uso improprio del termine fotografia perché eh non c'è alterazione della realtà e e poi e poi diciamo che riproduce riproduce abbastanza fedelmente quello che è abituato a vedere il nostro occhio il nostro occhio è un un occhio super autofocus cioè non riesce a vedere in maniera sfocata perché dove noi osserviamo abbiamo sempre la massima nitidezza eh e la fotografia il nostro cervello intercola per cui anche laddove il fuoco non c'è realmente in realtà eh noi costruiamo assolutamente eh in un certo senso la questa la 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 bassa profondità di campo è una è un meraviglioso difetto della fotografia che si presta a tantissime interpretazioni diciamo artistiche ma eh è un un elemento di se posso dire in realtà il focus stacking è altamente descrittivo perché se associamo un'interpretazione artistica ai diaframmi molto aperti dove magari la messa a fuoco è una lama che tocca solo eh alcuni piccoli dettagli e il resto è sfumato in un bocchè più o meno gradevole e quindi c'è una notevole interpretazione artistica e lì sì di eh alterazione della realtà il focus stacking in realtà tende a riprodurre quasi tridimensionalmente ti fa apprezzare qualunque dettaglio non ne omette nessuno perché riesce a riprodurli tutti tutti a fuoco. sì poi ovviamente poi in un certo senso si fondono anche però queste tecniche perché è nel nel focus stacking è importantissimo anche gestire la parte sfocata cioè decidere quando arrestare la pila di scatti è molto importante come fondamentale trovare il punto più vicino al al sensore sul quale dovremo cominciare eh la sequenza è anche importante decidere quando terminarla perché è anche bello no eh avere questo 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 sfondo in questo caso i petali dietro vedi sono totalmente sfocati e e e e danno diciamo eh importanza fanno staccare diciamo questi pistilli in maniera in maniera perfetta per cui è un po' una fusione di 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 nitidezza e sfocati insieme. rispondo velocemente a Sibilla il software se non ricordo male si chiama Helicon Focus con l'h davanti sì eh sì anche Photoshop è capace però Helicon Focus è un software dedicato eh a questo eh con molte più ehm diciamo molto più abili e molto più veloci io lo uso da anni e ormai è sostituibile per me. Qui cosa vediamo? Allora questo è uno dei fiori più belli che possono che si possono fotografare e in realtà un fiume un fiore comunissimo lo troviamo eh nelle nostre periferie nelle strade di campagna è il fiore della cicoria selvatica è un fiore è una pianta abbastanza alta eh questo fiore ha la caratteristica di eh quando si abbassa la luce verso sera di chiudersi i pistilli si eh raddrizzano rientrano nei loro tubicini e e i petali si si chiudono e la pianta sembra morta passita e quindi eh ho provato ho provato anche a prenderne qualcuno a portarmelo in studio per fare degli stacchi ma eh inevitabilmente loro si chiudevano e quindi ho dovuto fotografarlo alla all'aperto quindi rispondiamo anche a Marco che eh mi dice come faccio a tenere fermo le cose all'esterno eh tra il tra le infinite cose che mi porto dietro ci sono delle pinze ci sono delle eh delle piccole aste con le quali riesco a riesco a fermare gli steli delle degli molto lunghi eh perché altrimenti il vento renderebbe impossibile eh fare fare la sequenza e tra l'altro molto spesso comunque non ci si riesce eh perché eh tante cose devono accadere per portare a casa una buona fotografia. bisogna trovare il soggetto eh non ci deve essere vento la luce deve essere quella giusta eh la fotografia è anche è anche tenaccia e è anche tanta fortuna. A Bianca Maria adesso rispondo io dicendo che ne pensiamo tutto il bene possibile eh il problema è che non tutte eh fanno il focus stacking in macchina cioè eh la fusione eh se non ricordo male lo fanno ma non vorrei sbagliare eh non me ne vogliano i produttori eh solo Panasonic e Olympus riescono a fondere in macchina altrimenti anche Nikon. Anche Nikon fonde in macchina ok? Sì. Altrimenti bisogna comunque trasferire i file al computer e e darli in pasto a uno dei software che realizzano questi piccoli miracoli. Eh però la qualità non è uguale perché muove cioè eh modificando. Cambiando la messa a fuoco cambia il rapporto di ingrandimento. E quindi ci sono delle delle alterazioni nell'immagine che si vedono. Ciccio Pasticcio fa una domanda che sono sicuro eh non ci farà dormire questa notte. Ci sono tecniche di ripresa stereoscopica con due fotocamere affiancate, diaframme chiuso, D.O.F. sta per D.O.F. quindi profondità di campo massima in modo da scegliere la profondità di campo in post produzione. È possibile la stessa cosa in macro? Non lo so non ho mai provato eh la macro fotografia diciamo anche quella impegnativa che faccio io comunque eh utilizza un'unica un'unica ottica e un'unica eh staffa micrometrica eh slitta ehm non 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 lo so bisognerebbe fare delle prove ma io tra i miei colleghi non l'ho mai di vista provare. Stereoscopica è interessante perché comunque poi immagino richiederebbe una una visione per un'immagine 3D ma magari ce ne occuperemo in un'altra puntata dedicata all'argomento specifico. Grazie Ciccio Pasticcio. Andiamo avanti perché passiamo al regno animale. Passiamo al regno animale che eh offre un'altra difficoltà. in più cioè il 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 trovare i soggetti e fotografarli eh e vincere diciamo affrontare il loro movimento. Eh la in alcune situazioni è abbastanza facile quindi tutta la parte di insetti farfalle eccetera vengono fotografati al mattino prestissimo prima ancora che sorga il sole. perché in quelle condizioni per l'umidità e per il freddo notturno restano tutti fermi intirizziti possono essere anche addirittura spostati con delicatezza ovviamente e proprio eh messi su dei posatoi ideali per essere fotografati. Eh l'illuminazione ovviamente si fotografa veramente prima che prima che sorga ancora il sole e eh l'illuminazione ovviamente un'illuminazione che deve essere gestita in maniera molto molto precisa. Eh si possono ottenere delle fotografie straordinarie. in questo caso devo dire la verità questo è un calabrone ed è un calabrone eh morto deceduto purtroppo per lui che è stato in una passeggiata è stato trovato eh nel bosco è stato messo in una scatolina nello zaino sono tornato a casa ed è poi ehm lo ho fotografato qui non ricordo il numero degli scatti ma mi sembra che sia un sessanta. Sessanta partendo da un rapporto di riproduzione tre a uno cioè eh lo dico a vantaggio di chi non padroneggia i rapporti di ingrandimento l'immagine sul sensore è tre volte più grande della realtà. Sì eh vedete che qui c'è un una simmetria perfetta eh questo è anche legato al fatto che il il poveretto eh non era esattamente un'antenna era tutta rovesciata una parte era rovinata per cui io ho dovuto poi in Photoshop andare a replicare e poi specchiare alcune parti per creare questa simmetria così perfetta che è voluta. È voluta e eh soltanto eh ovviamente un un insetto per lui eh morto permette di fare. altrimenti eh questa simmetria però ti esponi alle critiche di Maurizio Berni che dice beh allora vedi che hai messo mano a Photoshop questa assolutamente assolutamente sì io ne sono un fortissimo sostenitore eh guardate che io eh io non sono uno di quelli che dice che come fanno tanti i miei colleghi eh devo dire ma io assolutamente i miei stai scatti e non hanno nessun intervento in Photoshop non è vero non è vero io uso Photoshop il problema è che viviamo in un in un in un in un epoca dove di sospetto per cui se c'è una bella foto ah quella foto lì è stata usata Photoshop ma le fotografie sono dei sono delle delle sono delle 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 opere creative in un certo senso perché un 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 pittore dovrebbe rinunciare a uno strumento per far meglio il suo quadro. La fotografia è un'idea Luca quindi nel momento in cui è un'idea tu la realizzi come meglio credi? È un'interpretazione il fotografico. A me non interessa replicare la realtà. A me interessa restituire la mia interpretazione della realtà. Del resto la fotografia è sempre stata mentoniera. È nata è nata con la sottrazione del colore. La più grande falsità nella nell'esperienza visiva eh di chiunque. Quindi non è non è quello secondo me il problema. Il problema è che eh è molto facile soprattutto per utenti poco esperti lasciarsi prendere dagli slider da quei pulsori maledetti e fare cieli post atomici e prati fosforescenti. Questo è il problema. Allora questo che sembra un carciofo fritto è invece? Questo invece è il frutto eh dello storace americano che è una pianta ornamentale che troviamo nelle nostre città eh diventa gialla arancione bellissima in autunno e lascia cadere a terra questi frutti che sono grandi come delle eh delle grosse ciliegie con queste eh con questa queste forme incredibili. qui è stato semplicemente sospeso e anche qui eh opportunamente illuminato e eh con eh questa tecnica del focus tracking che è stato poi eh diciamo restituito in tutta la sua in tutta la sua bellezza. Sembra un 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 oggetto di eh design futuristico. E apprezzo anche la scelta di uno sfondo apparentemente di un di un colore no? Poco popolare è un marrone molto scuro, marrone caffè che invece sta benissimo ed è un tono su tono quindi si si fonde perfettamente con con molte parti del soggetto stesso e crea un un mix veramente piacevole. qui è stato utilizzato un piccolo un piccolo mini fondale proprio per per creare questo effetto. La gestione dello sfondo è molto importante in macrofotografia anche in natura eh quindi cambiare anche di poco il punto di ripresa fa la differenza tra una uno sfondo che ben si armonizza con il soggetto e uno sfondo che non c'entra nulla. per cui eh lo sfondo forse è più è più è quasi più importante del soggetto sia nella sua composizione che nella sua illuminazione. Dopo tanta poesia scendiamo a a livelli di tecnica dura e pura perché facciamo vedere uno dei tuoi set di ripresa più complessi e ahimè anche più costosi quindi eh c'è c'è da raccontare parecchio perché eh noi vediamo riconosciamo il l'uncube che hai utilizzato anche in esterni e riconosciamo la zeta sette due credo abbiamo invece un obiettivo e che dovrebbe essere il venticinque millimetri due virgola cinque per cinque per esatto questa ottica è meravigliosa e chi eh eh ha perso eh la la seconda puntata quella con Marco Colombo eh diciamo caldamente a cercarla sui nostri canali perché che è in gran parte dedicata all'utilizzo di questo obiettivo che è un obiettivo che fa solo macro fa macro tra l'altro molto spinta con rapporti compresi tra due virgola cinque per e cinque per e cinque per detto questo torniamo al kit al set che che vediamo qui perché c'è è un'ottica molto specialistica un'ottica che io sconsiglio di comprare come prima ottica anche se in effetti permette degli scatti molto molto suggestivi ma è un'ottica molto molto difficile da utilizzare è un'ottica di arrivo di arrivo basti pensare che non ha una ghiera di messa a fuoco ad esempio che può disorientare il il principiante quindi eh si imposta rapporti produzione e poi è tutta questione di trovare il il punto di ripresa corretto e poi iniziare la 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 sequenza di scatti perché quest'ottica qui ha una profondità di campo veramente veramente ehm limitatissima con una profondità di campo così piccola il numero degli scatti sono tantissimi e quindi eh novo flex ha una slitta che permette di gestire eh come una centralina di eh controllo che vedete in primo piano eh tutta la sequenza eh tutti gli avanzamenti e automaticamente anche da eh il il comando alla alla fotocamera di scattare come vedete infatti dietro la fotocamera c'è un cilindro che ospita il motore e e da qui si ripartono due cavi uno ovviamente è collegato alla centralina e uno invece procede verso la connessione eh laterale del telecomando della fotocamera quindi eh una volta impostato il programma di gestione di quello specifico scatto eh fa tutto da sé e a te non resta che guardare e sperare che non arrivi una folata di venti. Esatto ehm è abbastanza compatta è abbastanza leggera la uso anche sul campo eh il bello è che permette cioè ha diverse funzioni la più semplice permette di impostare il punto di partenza il punto di arrivo della 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 slitta del percorso che deve fare e il numero di scatti si fa si fa avvia e poi possiamo allontanarci anche se se fotografiamo degli insetti ad esempio possiamo proprio ritirarci lascia non disturbare eh l'insetto che fotografiamo e la macchina e la slitta fa tutto da sola compresa tutti gli scatti in questo modo possiamo gestire eh non decine ma centinaia di scatti addirittura e quindi è uno strumento ovviamente molto molto avanzato eh che però permette di fare cose che altrimenti non sarebbero possibili eh ha un utilizzo anche siamo nell'ordine di eh un paio di migliaia di euro giusto per la slitta ma ecco che nessuno si spaventi è un punto di arrivo per chi ha deciso di fare della macrofotografia e in particolare del focus stacking eh una una professione o comunque un'attività noi sappiamo che insomma ha spesso il confine tra hobby e professione soprattutto per quanto riguarda gli investimenti e l'abile eh certo vale vale per tutte le 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 passioni e le 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 attività hobbistiche io la uso anche per professione una cosa se posso eh su questa su questa su questa slitta ehm è sicuramente eh lo stato dell'arte delle slitte micrometriche eh computerizzate Ha una precisione che rasenta il 0,2 mm per cui l'avanzamento di ogni singolo passo per far scattare la fotografia è molto molto preciso ed è come diceva giustamente Luca un punto di arrivo, ma un punto di arrivo a cui non è detto che in tanti approdino. La macchina, questo slitta nasce per il mondo delle gemmologia, per l'uso metallurgico, per la verifica scientifica di alcune materie per cui non è nata per la fotografia. Ovviamente l'esperienza di Novo Flexi nelle slitte l'ha fatto sì che potesse anche per utenti espertissimi come Luca diventare un punto di arrivo appunto gestito e vanno usati con grandissimi ingrandimenti. Se no non ha senso usare questa slitta per ingrandimenti normali, uno e mezzo per, si usano le slitte meccaniche dove la piccola imprecisione di pochi micron non crea nessun problema e dove si spendono cifre sicuramente molto molto più basse. Fino al 2 a 1 si possono fare gli stack manuali assolutamente con delle slitte diciamo... A che maniera manuale? Ah, fino al 2 a 1 assolutamente sì, fino al 2 a 1 sì. Qui ad esempio è anche uno scatto a 5 pera, quindi stiamo ingrandendo di 5 volte, questi sono dei licheni su un ramo di sorbo e vedete che entriamo quasi nella microfotografia. Su questa slitta alcuni macrofotografi utilizzano addirittura lenti di microscopi per arrivare al 10 per, superare addirittura al 10 per e diventa veramente un viaggio nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente affascinante perché... riusciamo a vedere quello che naturalmente il nostro occhio non sarebbe capace altrimenti. Sono dei microcosmi anche questi, eh. È così. Questa è l'ultima immagine della serata. Sì, e concludiamo con una fotografia che è un invito a provare, questa è, sono i pistilli dell'agapanto, è una pianta comune che si trova sulle terrazze. Sì, è una pianta meravigliosa, è stata fotografata con il 90 mm, 2 a 1, qua credo che il rapporto ingrandimento è poco sopra l'1 a 1, quindi è uno scatto che può essere, diciamo, provato, sperimentato da chiunque. Sì, è un'ottica macro, una slitta micrometrica anche di quelle semplici, come potrebbe essere la Castel Q, che è una slitta di ingresso. Per l'illuminazione, se non avete dei LED, potete utilizzare dei piccoli pannelli riflettenti, ma a casa potete usare una bajour. Insomma, in fotografia bisogna anche saper inventare, saper utilizzare quello che si ha, e con questa fotografia invito tutti a sperimentare, a provare, a passare delle bellissime ore, anche notturne a volte, dedicate alla macrofotografia. Luca, tu conduci anche, organizzi corsi, sei anche un docente, no? Sì, da molti anni, oltre che fotografare mi piace un sacco insegnare, quindi tengo molti workshop, non solo di macrofotografia, anche di fotografia di paesaggio e di montagna e di natura e di animali. Sono da qualche anno docente Nikon School Italia, ed è una cosa che mi piace un sacco, perché poter condividere la propria passione con degli amici è la cosa più bella che c'è. Chi volesse partecipare, dove ti trova? Allora, mi trova sul mio sito, sui miei canali social e sul mio sito, che è www.lucamich.com, ma poi lo potranno vedere sulla registrazione come ultima slide, quando eventualmente vorranno rivedere questa intervista. Perfetto, intanto, a vantaggio di tutti, l'abbiamo scritto tra i commenti, quindi chi vuole prendere nota lo trova nei commenti e vedo che hai già un'estimatrice di chi ti ha già seguito in passato. Bene. Ah, certo, Sibilla, questa è una mia allieva, ha fatto un sacco di corsi e è una fotografa molto brava. Bene. Allora, Sibilla, noi abbiamo l'occasione per invitarti a mandare le tue immagini, se ti fa piacere, a photocop.it. E niente, molto semplicemente, Luca, grazie per tutto quello che ci hai raccontato questa sera, grazie intanto a Nik per aver contribuito fattivamente alla realizzazione di questa nuova puntata, e a me non resta che darvi l'appuntamento per giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, quindi giovedì 24 maggio alle ore 21, l'appuntamento sarà con Alberto Ghizzi Panizza. Non mi anticipiamo niente sui contenuti, so che è un personaggio che molti di voi già conoscono e quindi è una garanzia di una serata interessante come quella che abbiamo vissuto questa sera con Luca. Una buona nottata a tutti. Grazie a tutti gli intervenuti e buona serata a tutti. Grazie Luca, bravissimo. Grazie, grazie mille. E buona serata a tutti. Ciao. Buona serata.